Ci troviamo in uno dei luoghi credo più successivi delle nostre colline gardesane, Cima dei Campei, con Hermes Buffoli, assessore al turismo del comune di Toscana Maderno. Non è una gita turistica, non è una giornata di piacere, ma è una giornata di conoscenza. Oggi vengono presentati una serie di percorsi da poter fare all'interno di queste meravigliose colline, contatto dalla natura, il lago è là dietro che ci osserva, non è che ci osserva, ma lo vediamo. Certamente sono 18 percorsi anello che andiamo a presentare oggi e che da oggi sono inseriti sul sito internet dell'amministrazione comunale di Toscana Maderno. Oggi siamo su questa montagna splendida a Campei de Sima, Rifugio degli Alpini. Due sono i rifugi, compreso il Pirlo, che fanno parte del nostro territorio e che fanno parte degli itinerari strutturati che si possono scaricare dal sito del comune tra i più conosciuti ma anche tra i più impegnativi. Ci sono 18 percorsi, di questi 18 percorsi gli altri sono strutturati anche con difficoltà minime per famiglie, percorsi anche di un'oretta di passeggiata attraverso le frazioni fronte lago, diciamo, vicino alle spiagge, alle rive, appena sopra, parlo di Monte Maderno, Cecina, Gaino, nelle varie frazioni del nostro comune che sono percorse da questi itinerari. Come si fa? Si entra nel comune di Toscolano, si può scaricare, già si può visionare prima il percorso attraverso 8-10 immagini che sono identificative delle bellezze che si andranno a vedere poi percorrendo questo sentiero, bellezze ambientali, artistiche, architettoniche, descritte poi su una scheda che è scaricabile anch'essa, che entra nei particolari dando le nozioni più dettagliate del patrimonio e delle bellezze che si vanno a incontrare. C'è una cosa in più, si può, per chi ha già un proprio GPS e usa questo nuovo strumento per le proprie escursioni, si può scaricare il file e quindi utilizzare anche il satellitare per essere accompagnati in maniera dettagliata sui nostri itinerari. Questi 18 percorsi sono stati attivati dall'amministrazione comunale in sinergia con gli alpini, la sezione degli alpini di Toscolano Maderno, con l'associazione Genitori, con la protezione civile, con la scuderia Castello e con la remiera che attiverà poi attraverso, la remiera sì, però la remiera ha anche un ambito di guide patentate e di escursionismo che saranno a disposizione dei turisti che vogliono utilizzare questo prodotto e essere accompagnati da persone esperte e qualificate. Grazie a loro siamo riusciti a presentare oggi questo prodotto che è online, però scaricabile da casa propria, da una stanza d'albergo, piuttosto che recandosi a un punto informativo del nostro comune dove chiedendo un sentiero in base alla difficoltà, alla percorrenza, al tempo, al dislivello che uno vuole dedicare per la conoscenza di questi percorsi, avrà modo di avere il materiale in tempo utile. Romano Micoli, presidente del gruppo Alpini, qui siamo in sezione Alpini di Salò, Montesuello, siamo in casa vostra qui, avete lavorato, avete messo a posto quello che vediamo alle nostre spalle, recuperato la chiesa, insomma tradizione degli Alpini, e dare una mano, lavorare, fare per gli altri, mai per se stessi. Comunque avete fatto un gran posto e credo che valga la pena di essere visitato. Indirettamente l'abbiamo fatta anche per noi stessi, perché poi è la meta domenicale di tanti nostri soci. Certo ci è costato parecchio, 5 anni di lavoro, 50.000 ore gratuite, però valeva la pena, abbiamo recuperato questo angolo di verde nella valle del Toscolano, penso che meriti, va sfruttato, infatti è a disposizione tutti i sabati, le domeniche, dalla prima domenica d'aprile fino all'ultima d'ottobre, a chi voglia venire a passare una giornata in tranquillità. Ecco, voi avete qui il rifugio alle vostre spalle, avete anche recuperato quella chiesetta che è di fronte a noi. Sì, abbiamo, la chiesetta c'era, era di roccata, l'abbiamo rimessa a posto. Un'altra cosa che va sottolineata, Si chiama, scusa, la chiesetta? La malona della neve. Il 2 di agosto, la prima domenica d'agosto, facciamo la festa con la messa. Un'altra attività che va la pena di sottolineare è che qua, da settembre a fine ottobre e da primo d'aprile fino a fine giugno, vengono tutti i venerdì e sabati, vengono scolaresca, in genere quinta elementare o prima media. Quest'anno abbiamo avuto ben 600 ragazzi che sono venuti qua a passare due giorni visitando i posti caratteristici qui intorno, il bosco, la grotta e con l'aiuto magari della guaria forestale, della guaria ecologica, hanno passato tutti due giornate molto istruttive, anche questo va sottolineato.